qui con le nostre topoline le topoline di Recoaro Terme ma qua la mia preferita è la topolina di quelle da dieci elode di una notte di amore lei la mia topolina preferita di nome è di fatto Cristiana eccola qua la nostra sposa vicino al microfono con chi ti sposi? Riccardo mamma come lo prendi in mano? è l'esperienza dice giustamente allora Riccardo di dov'è? Recoaro anche lui ok quando è che ti sposi? il 30 giugno il 30 giugno ok allora Cristiana è vero che ti senti un po' porcellino? ma lui non l'ha ancora scoperto? hai proprio ragione mamma guarda solo come hai preso in mano il microfono e dopo quello che hai detto guarda lo invidio allora hai qua con te i tuoi testimoni di nozze? certo su le mani hai testimoni? testimone e tutte amiche amiche allora testimone vicino al microfono prendilo in mano bravissima allora dimmi un pregio e un difetto di Cristiana hai voluto fare la testimone? adesso paghi impegno testimone e sorella e sorella complimenti alla sorella anche ok bei gli occhi suggerimenti? eh no sei tu sorella la conosci bene il pregio il difetto puoi stare qua fino alle 3 e mezza di notte allora il pregio un difetto nevrotica si ma dai è un pregio simpatica dai carina ok ragazzi vi interrompo un secondo ragazzi qua fuori se volete c'è una camera libera al secondo piano c'è la camera libera ok allora vai è un pregio è un pregio un pregio casalinga perfetta ho capito una ragazza seria quindi sei una ragazza seria eh però da quelle due cose qui ma bravatosa eh da quelle due cose qua ho visto che le ragazze brave ma va bene che canzone volete cantare ragazze? arriverà arriverà vai e cosa arriverà? orriderà il big bamboo piangerai come pioggia tu piangerai un vento d'autunno triste e tu te ne andrai mai c'è anche che mai mi perdonerai ma si spegnerà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole starà e ti cambierai la crescita dei pianti i sorrisi non senti un sogno vai vai Cristiana e arriverà il sapore del bacio più dolce è un abbraccio che ti scalderà oh arriverà una frase e una luna il cuore è lento e poi chi ti sorprenderà oh arriverà la mia pelle a curare le tue voglie la mattia delle stelle penserai che la vita è ingiusta e piancherai ai ai penserai alla volta in cui mi hai detto no non vi lascerò ormai grazie Cristiana ma il tuo colore il mio ritorno a noi ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole starà e cambierai la tristezza la tristezza dei pianti sorrisi lucenti tu sorriderai e arriverà e arriverà il sapore del bacio più dolce è un abbraccio che ti scalderà oh arriverà un abbraccio un abbraccio e la luce di quelle che poi ti sorprenderà o arriverà la mia pelle a curare le tue voglie la mattia delle stelle la poesia della neve che cade il rumore non va auguri lei il 30 giugno inizierà la sua sfiga Cristiana è per fortuna che non la conoscevate brave ragazze adesso che avete cantato in bene prima vi date un premio adesso a Cristiana ne do un'altra un'altra bella foto facciamo ok ciao ragazze auguri